Charlie, ma sono loro? Sì, i rosi, sono proprio loro! Chiamala Centrale. Centrale? Procediamo all'arresto. Ma non ci devono riconoscere. Travestiamoci! Scegli Infostrada. A 19,95 euro al mese, a DSL, vera e telefonate a zero. Charlie, ma il travestimento dove? Ho cambiato gli occhiali, ho cambiato la giacca. Dai, sei il presentatore di buco. Mi chiamo a Carlo Conti, sei il conti? Mi nomi car, ma per nulla. Mi piace tantissimo. Anche a mia mamma, a mia nonna. Chiama il 159 o vieni nei negozi Wind.